Demet Özdemir avaglia con la sua bellezza e il suo talento recitativo. I segreti dell'aspetto curato di Özdemir, diventata per molte persone un'icona di bellezza, suscitano grande curiosità. Demet Özdemir continua a ispirare i suoi fan condividendo le sue routine di bellezza e cura dei capelli. Ecco i rituali per la cura dei capelli e i segreti di bellezza che Demet Özdemir applica con attenzione. Demet Özdemir è un nome che attira l'attenzione non solo con la sua recitazione, ma anche con la cura dei capelli e della pelle. Erano motivo di curiosità i metodi naturali utilizzati dal famoso attore per i suoi capelli e la sua pelle liscia, ammirati dai suoi fan. Per proteggere la lucentezza e la salute dei suoi capelli, l'attrice di successo preferisce una maschera naturale, facilmente preparabile con ingredienti che si trovano in ogni casa. Demet Özdemir utilizza una miscela di uova e olio d'oliva per aggiungere lucentezza e vitalità ai suoi capelli. Özdemir rende i suoi capelli più sani e luminosi applicando regolarmente questa maschera naturale. La famosa attrice mantiene il suo aspetto con metodi naturali. Oltre alle maschere naturali realizzate in casa, Demet Özdemir agisce con attenzione anche nella cura del corpo. Coadiuva la cedura della pelle utilizzando sia la spazzola corpo che quella viso durante la doccia.